Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre, e oggi parliamo di InvoiceMaker. Intanto, cos'è InvoiceMaker? È un generatore automatico di fatture che supporta diverse lingue e diversi modelli, diversi template. Volendo, è possibile cambiare di volta in volta la lingua e il modello con cui le nostre fatture verranno generate. Ho scritto questo programma in Python e in WXPython per l'interfaccia grafica, il che vuol dire che il programma è cross-platform, è compatibile con Linux, Windows e macOS. Per questa dimostrazione ho scelto Linux Mint come sistema operativo. Per altri sistemi operativi seguite semplicemente le istruzioni presenti su GitHub dove il progetto è stato ospitato. Quindi, come prima cosa, arricchiamoci sul repository GitHub www.https.github.com.clarintux.invoicemaker e andiamo in basso dove abbiamo la sezione per l'installazione. Quindi, io copierò il primo comando, voi seguite le istruzioni per il vostro sistema operativo. Ok, sta installando praticamente i prerequisiti per questo programma, che sono git ovviamente per clonare questo repository, wkhtml2pdf per convertire le nostre fatture in pdf, eccetera. Poi copio il secondo comando, che è semplicemente per permetterci di utilizzare Python al posto di Python 3. Cioè, scriviamo Python ma in realtà stiamo utilizzando Python 3. Poi vado a clonare il repository con il terzo comando. Fatto. E abbiamo altri due comandi, ma io semplicemente li ignoro perché vi faccio vedere come fare le stesse cose in modalità grafica. Quindi possiamo chiudere il terminale. Allora, andiamo sulla nostra home, apriamo il file manager e vi trovate una cartella in voice maker. Entriamo in questa cartella. La prima cosa che facciamo è sostituire questo file, logo.jpg, con un altro logo.jpg. Quindi, cosa stiamo facendo? Stiamo mettendo un nostro file in formato jpg, ecco il nome logo. Cos'è questo? E' ovviamente il logo che verrà utilizzato sulle nostre fatture. La seconda cosa è aprire il file text.txt. Qua vedrete tre linee, le prime tre linee cominciano con text1 uguale, text2 uguale, text3 uguale. Adesso non è obbligatorio avere un testo dopo l'uguale, potete lasciare il campo anche vuoto, ma io scriverò qualcosa su text1, ad esempio, non lo so, bla 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 per esplicarci. va bene, su test2 scriverò questo è il test2, va bene, su test3 scriverò, non lo so, questa fattura è stata generata automaticamente. Quindi voi scrivete quello che volete, queste sono praticamente delle note addizionali che vi ritroverete sulle vostre fatture. Salviamo, chiudiamo, bene. Adesso rendiamo eseguibile il file invoicemaker.py Lo possiamo fare così in modalità grafica, consentire l'esecuzione del file come programma, sì. Facciamo la stessa cosa per sendmail. Sendmail è il modulo per inviare automaticamente le nostre fatture ai clienti. Ma per utilizzare sendmail avete bisogno di configurarlo. Perché configurarlo? Perché non posso prevedere le configurazioni del server email che utilizzate. Quindi qua trovate scritto che dovete modificarlo. Ad esempio su smtpserver vado a mettere smtp-gmail.com Porta, dovete individuare la porta che è utilizzata, eccetera, eccetera. Potete cambiare l'oggetto della vostra email, il nome del file che verrà inviato in allegato. Poi avete qua il corpo dell'email, quindi voi scriverete ad esempio Buongiorno signor bla bla bla, rispettabile compagnia bla bla bla, tutto quello che volete. Insert your name, qua scriverete il vostro nome. E insomma tramite questo file, tramite questo modulo poi sarà possibile anche inviare automaticamente tutte le fatture ai clienti. Che significa che premete un tasto, non vi dovete assolutamente curare di nulla e i vostri clienti riceveranno in automatico le fatture. Ammesso che ovviamente questo file sia stato configurato in modo corretto. Comunque partiamo dai. Clicco su Invoice Maker, esegui. E scegliamo la lingua. Ovviamente per utilizzare una determinata lingua abbiamo bisogno che il locale di quella lingua sia installato sul nostro sistema. Io ho installato tutte queste lingue, l'inglese, l'italiano, il tedesco, il spagnolo e il francese, che sono esattamente le lingue attualmente supportate da questa primissima versione del programma. Comunque scegliamo l'italiano ed ecco che parte il programma con dei campi assolutamente vuoti, ovviamente. E noi cominciamo ad inserire i nostri dati. Nome e cognome. Quindi il nostro nome e cognome oppure nome dell'impresa, ovviamente. Scriverò semplicemente Clarintux. E poi vado con campi di fantasia. Quindi inserisco ad esempio via Roma 31, un codice postale e città Roma, un numero telefonico di fantasia, un indirizzo email di fantasia, una partita IVA, un numero di partita IVA di fantasia e delle coordinate bancarie di fantasia. Allora, su tutti questi campi non ho inserito nessun meccanismo di controllo, quindi vi ho dato totale libertà di inserire quello che volete, nel formato che volete. A questo punto esploriamo un po' il menu. Andiamo su file, poi su salva. Come vedete, in basso, nella barra di stato, vi dice errore. Inserisci prima tutti i tuoi dati e un numero di fattura. I nostri dati li abbiamo inseriti, dobbiamo però inserire un numero di fattura. Su questo campo esiste un meccanismo di controllo, perché non ha senso scrivere qualcosa del genere. Non ha senso scrivere numeri negativi o numeri decimali. Quindi qua voi potete scrivere il numero della prima fattura che verrà generata. Ad esempio, semplicemente 1. Oppure, se volete, qualcosa del genere. 2023 0000 1. Ok, possiamo adesso salvare? Sì, salvati i tuoi dati e il numero fattura. Adesso vi dimostro che, se chiudiamo, ovviamente non dobbiamo reinserire quei dati. Quei dati sono stati salvati. Quindi riapriamo il programma ed eccoli qua i nostri dati. Mancano ancora i dati di un primo cliente. Quindi andiamo ad inserirli. Vado con cliente 1. Poi un indirizzo di fantasia. Un codice postale e una città di fantasia. L'email non è obbligatorio. Vedete, tutti i campi con l'asterisco sono obbligatori. L'email non è obbligatoria. Ma ovviamente ci servirà nel caso in cui a questo cliente vogliamo mandare un'email con la nostra fattura. Tasse da applicare, non lo so, scriverò 19, 19%. Ok, a questo punto possiamo anche salvare e verrà salvato un file per questo cliente numero 1 con una fattura vuota. Ma noi vogliamo già inserire qualcosa su questa fattura. Quindi primo articolo, non lo so, scriverò martello. Secondo articolo scriverò pinza. Terzo articolo scriverò chiodi. Ok, possiamo scrivere anche una descrizione opzionale. Io la scriverò martello per martellare, pinza bo per pinzare, chiodi, scatola piccola, qualcosa del genere insomma. E poi la data è opzionale, non so se a qualcuno serve. Verrà semplicemente nella descrizione aggiunta anche una data. La saltiamo, quindi andiamo su prezzo, facciamo che il martello costa 5 euro, la pinza costa pure 5 euro, la scatola di chiodi è anche 5 euro, tutto 5 euro. Però di scatole di chiodi ne compriamo 2 e quindi abbiamo un 20 euro totale. Benissimo. A questo punto si possiamo salvare. Ma a parte salvare possiamo anche generare la fattura. Se clicchiamo su generare fattura abbiamo anche salvato automaticamente. È come se avessimo prima cliccato su salva e poi su genera fattura. Quindi clicchiamo su genera fattura, verrà effettuata questa duplice operazione e poi ci verrà data la possibilità di scegliere un modello. Vado sul 6 che è abbastanza bellino. Ecco generata questa fattura. Dove la troviamo? Su invoices. 2023 perché è l'anno in cui sto registrando questo video. Ottobre perché è il mese in cui sto registrando questo video. Ed ecco qua due file. Un file html se vi serve e un file pdf. Adesso noi vedremo il file pdf. Quindi come vedete le nostre fatture verranno poi organizzate, raccolte per anno e mese. Siamo a ottobre 2023 quindi è qua dentro che ci troviamo questa fattura. Ed eccola qua. Vedete che abbiamo il logo che avevamo scelto, poi le nostre informazioni, la data che non abbiamo inserito viene scelta automaticamente. Quindi ci risparmiamo questa operazione. Il numero a fattura, ovviamente i dati del cliente, tutto quello che avevamo inserito. Per un totale di 20€ più tasse 3,80€. Quindi abbiamo un ammonto dovuto di 23,80€. In basso abbiamo il testo che avevamo inserito, le coordinate bancarie e il numero della partita IVA. Insomma tutto bello, tutto perfetto. Adesso voi potreste andare di nuovo su genera fattura ed esplorare tutti i template che sono disponibili. Però state ben attenti al seguente fatto. Quando cliccate su genera fattura, come detto, quel genera fattura andrà anche a salvare la fattura. E andrà a salvare anche i dati che avevamo inseriti. Quindi, essendo che abbiamo salvato su un nostro file, un file che riguarda noi, la nostra impresa, anche un numero a fattura. Se qua rimane questo 01 e clicco su genera fattura, verrà resettato il numero a fattura di nuovo su 01. Quindi dobbiamo stare ben attenti. Se invece clicchiamo su nuovo, ecco vedete che il numero è andato a 2. E' stato incrementato di 1. Perché abbiamo generato una prima fattura e quindi per la seconda fattura abbiamo bisogno di un nuovo numero di fattura. Benissimo. Cosa possiamo fare a questo punto? Beh, le stesse cose che abbiamo già fatto. Oppure inseriamo un nuovo cliente. Allora, vado con cliente 2, indirizzo di fantasia, codice postale città di fantasia, indirizzo email non lo metto, tasse da applicare, facciamo 21. Adesso cerco di essere più veloce, scrivo così a casaccio e metto che tutto costa 100 euro. Vabbè, 1000 euro fa lo stesso. Siamo a 1200. Questo lo moltipico per 4. Va bene. Fatto. Ovviamente possiamo andare su salva, ve l'ho già detto. Possiamo andare su genera fatture, verrà prima salvato e poi generata questa fattura. Ma possiamo anche andare su genera tutte le fatture. Cosa fa genera tutte le fatture? Innanzitutto salva le informazioni che abbiamo qua. Quindi possiamo saltare il passaggio di andare su salva. Oppure per scrupolo andiamo prima su salva. Ma comunque genera tutte le fatture, salverà prima e andrà a creare una fattura per tutti i clienti che già esistono. Quindi per cliente 1 e cliente 2. Allora scelgo lo stesso modello. Ok, generate le fatture. Andiamo a vedere. Adesso abbiamo 3 file HTML e 3 file PDF. Perché uno l'avevamo già fatto, un file HTML e un file PDF. E quindi abbiamo i nuovi due file. Questo file per cliente 1. Ovviamente non è cambiato nulla, a parte il numero della fattura che è andato a 2. E poi abbiamo il cliente numero 2. Qua abbiamo le nuove informazioni per il cliente numero 2. La nuova fattura per il cliente numero 2. Totale a monto dovuto 1815, va bene. E numero fattura 3. Tutto esatto, abbiamo 3 fatture. Numero 1, numero 2, numero 3. Ok, adesso se chiudo queste informazioni rimangono salvate. Ovviamente sì. Andiamo di nuovo su Invoicemaker. Apriamo il programma. Segui. In automatico ci ritroviamo le informazioni nostre. Ma se andiamo su Apri. Ecco che vediamo cliente 1 e cliente 2. Ad esempio, apriamo cliente 1. E abbiamo praticamente il modello fattura che avevamo creato con martello, pinza, chiodi, eccetera. E siamo pronti per stampare la fattura numero 4 volendo. Ok, se andiamo su Elimina, ovviamente ci viene data la possibilità di eliminare un cliente tra quelli che già esistono. Cos'altro? Se vogliamo modificare qualche voce, ovviamente la modifichiamo. Se vogliamo modificare un'intera riga, basta cliccare sul numero della riga. Ad esempio, clicco su 2. Ci verrà detto, vuoi cancellare la riga numero 2? Va bene, sì. E vedete che è scomparsa la riga della pinza. E qua è stato tutto aggiornato. Quindi adesso abbiamo un totale di 15 euro. Non viene più calcolata la pinza, ovviamente. A questo punto possiamo andare su Salva, le solite cose. Ma voglio mostrarvi ancora il pulsante Pulisci. Se cosa succede con Pulisci? Vedete, la tabella è stata completamente resettata. Abbiamo ancora le informazioni del nostro cliente, ma abbiamo una fattura vuota e possiamo ricominciare da capo. Molto utile se abbiamo tante voci su questa fattura e non vogliamo stare a cancellare riga per riga, ma vogliamo ricominciare da capo. Vogliamo resettare il tutto. E a questo punto, se andiamo su Salva, abbiamo risalvato queste informazioni. Se clicchiamo su Genera, verrà generata la fattura. Se clicchiamo su Genera tutte le fatture, verranno generate tutte le fatture. Insomma, ci siamo capiti. Adesso modificherò le e-mail, inserirò un e-mail esistente per me e per il cliente. A voi non vi mostro questa e-mail. Aggiungerò anche le informazioni sul modulo Sent Mail, che come vi ho detto vanno cambiate. E vi dimostro che riceverò e-mail in modo del tutto automatico. Ecco, siamo pronti. Quindi cosa ho fatto? Ho inserito delle e-mail, delle caselle e-mail reali. Ho configurato il modulo Sent Mail correttamente con le informazioni del mio server e-mail. Poi dobbiamo semplicemente inserire la password della nostra casella e-mail. Quindi inserisco la password. Ok. Aspettiamo. Ok, fatture inviate. Adesso non vi farò vedere queste e-mail per ovvie ragioni. Ma vi leggo semplicemente quello che ricevo. Ecco, ho ricevuto due e-mail, una per ogni cliente, con soggetto, con oggetto My Invoice 28 ottobre 2023, la data attuale. E poi, spettabili cliente 1, quindi ha preso anche il nome del cliente. Le invio la mia fattura, grazie. Questa e-mail è stata inviata automaticamente. Distinti saluti, Clarindux. E' in legato la fattura per il cliente numero 1. Poi ho una seconda e-mail. My Invoice. Voi traducete in italiano, ovviamente. 28 ottobre 2023. Spettabile cliente 2. Le invio la mia fattura, grazie, questa e-mail, eccetera, eccetera. Ok, praticamente abbiamo finito. Quanto meno vi ho mostrato tutto quello che c'è, tutto quello che si può fare con l'interfaccia grafica, però non vi ho mostrato il fatto che si può utilizzare anche da terminale. Le informazioni, ovviamente, si possono mettere solo su interfaccia grafica, però su terminale possiamo fare qualcosa del genere. Allora, Invoice Maker. Date Help. E potete leggere cosa potete fare. Comunque, io già lo so. Scrivo il T per italiano e poi vado con All per generare tutte le fatture. Poi vado con Template per scegliere un template. Mi pare che avevamo scelto il 6, quindi vado con 6. E poi, se metto anche Send, verranno mandate queste e-mail. Adesso mi risparmio questa operazione che abbiamo appena fatto. Faccio così. Quindi Invoice Maker, poi la lingua, tra quelle disponibili, poi All e poi il Template, tra quelli disponibili. E abbiamo generato tutte le fatture in un colpo senza nemmeno aprire l'interfaccia grafica. Va bene, credo che sia tutto. Passiamo quindi al futuro di questo programma. Allora, a me piacerebbe continuare a svilupparlo. Io ho pubblicato questa prima versione. È presente sul mio repository in GitHub. Diciamo che ho congelato, ho voluto congelare questa prima versione. Però lo sviluppo può continuare su un altro ramo, sul ramo di sviluppo appunto. Mi farebbe veramente piacere che qualcuno mi aiuti, che qualcuno collabori e progetto. Ovviamente gli verrà fatto credito. Lo sviluppiamo insieme. Allora, se non siete sviluppatori e quindi non ve la cavate con Python o WX Python, potete contribuire al progetto con le traduzioni. Potete controllare se ci sono degli errori sulle traduzioni. Probabilmente ci sono anche degli errori già in inglese, essendo che io l'inglese non lo mastico. Oppure, se volete aggiungere qualche traduzione, diciamo che tutte le modifiche alla parte che riguarda la traduzione verranno accettate per quanto possibile immediatamente. Cioè, questa primissima versione si troverebbe ad avere qualche nuova lingua disponibile. Poi, come potete aiutare ancora? Intanto, semplicemente testando il programma. Io non l'ho nemmeno potuto testare su Windows, ad esempio, e su macOS, non avendo una copia di questi sistemi operativi. Poi, ricapitoliamo, traduzioni, testare il programma in tutti i modi possibili e su qualunque sistema operativo. Se siete sviluppatori, se sapete sviluppare, aiutatemi con lo sviluppo. Altrimenti, se ve la cavate con l'HTML, beh, sarebbe bello creare un nuovo template, magari più bello, magari più utile, tutto quello che volete, per inserire questo nuovo template nel progetto. Va bene, cos'altro? Penso che ho finito. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale. Ciao, da Clarintux.